Non, non, non! Non, non, non! Amore? Sono a casa! Mi dai una mano con le buste? Ma che cosa sta succedendo? Buia! Chi sono questi tuoi amichetti? Mamma, scusami. L'hanno scoperto. Non hai paura, signora. Se collabora andrà tutto bene. Sappiamo che ha dei poteri. Vogliamo solo che li usciti nella maniera giusta. Ma quali poteri? Che dite? Beh, ammetterai che a casa succedono cose strane. Mamma, hai visto dove ho messo il braccialetto zebrato? Ma è lì, sul pieno di marmo. Non c'è. Guarda meglio. Ma no, è che lei non guarda bene. Se le cose non le saltano al collo, mica le vede. Ma non è l'unica cosa strana che è successa. Ho ragione, signora. Ciao, mamma, io vado. Gui, aspetta, vieni un attimo qui. No, metti a letto. Tra poco avrai la febbre. Mamma, ma che dici? Io sto benissimo. Oddio. Ho 39. E poi misuriamo anche il colesterolo, eh? Che mi sa che è un po' salito. Sì, è salito. Ma che c'è di strano? Sono una mamma. Ah, buongiorno, amore. Che hai fatto ieri sera? Ma niente, sono andata al cinema e poi a casa. Il residuo mi ha lavato di un timbro sulla mano. Sicuramente è un locale. Tracce di tabacco sotto le unghie. Hai fumato. Occhiaie livello 4. Non hai dormito più di tre ore. È il kebabaro alle tue spalle. Mi suggerisce che ieri sera hai mangiato prima di andare a dormire. Mi deve ancora 6,50 euro. Questa carica di dinamite ne fa esplodere altre 106. Sborsa nel resto del mondo. Allora stai calmo. Ok? Risolveremo tutto quanto. Sappiamo che sei una bravissima persona. Quindi non costringerci ad usare la forza. Va bene? Non costringerci... Sono entrata nella tua stanza. Ed è un casino. Ci sono tutti vestiti in giro. Tazze, bicchieri, calzini sporchi e sbagliati. Vai subito a metterla a posto. No. No, no, no. Non posso, non posso. Allora? Guarda che conto fino a tre, eh. Uno. Che succede al tre? Due. Nessuno lo sa. E... Eh, ma se può mai fare niente qua, però, eh. Che cazzo? Ma mai, eh. Bravo. Lo vedi che quando vuoi sei un bravo ragazzo, eh? Mamma, ci hai salvati. Sì, 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 però adesso andate tutti a casa. Forza? Pronto? Uno. Due. E... E anche voi a casa. Spegnete la TV e andate a dormire. Beh? Uno. Due. E... La, 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 la